Se Daniele si butta dalla barca, amici miei, io sono ciccione e so galleggiare, quindi sono a posto. E per te amico mio? Sto ancora sperando che tutto questo si possa risolvere, che sia uno scherzo di cattivo gusto, un incubo punto, purtroppo è la realtà, Daniele mi mancherà tantissimo. Ciao Marco, un salutone e un abbraccio. Siete incredibili ragazzi, siete quello che tutti vorrebbero avere, siete pazzi anche sui post di Twitch che hanno fatto su Instagram, non gli avete dato un fiato a quelle persone. Ciao a tutti, ma soprattutto ciao a quelle merde di Twitch America, scherzo mi dissocio, anzi non tanto, cancelletto phrase drum box. L'altra volta ero in stanza a Daniele e mi ha fatto vedere un... Daniele se mi stai seguendo mandamelo perché voglio leggerlo alla gente, ve lo faccio vedere. E mi ha fatto leggere un messaggio di quando io ero diventato famosino, quando ero piccolo. E lui mi aveva mandato questo messaggio qua su Messenger, di Facebook, con scritto possiamo diventare amici, tipo a moda manga. Ed è così che io e Daniele tantissimi anni fa, è stato il primo rapporto che abbiamo avuto io e lui, ovviamente non l'avevo neanche letto perché è stato tantissimi anni fa. Porca madonna, non pensavo di commuovermi parlando di queste cose, che merda, che merda di vita. Vado avanti nella mia carriera, passano gli anni, divento quello che sono diventato, cosa di cui sarò sempre grato, sono stato molto fortunato nella mia vita. Ma, come tutti i grandi artisti maledetti, ho sempre avuto questa maledizione che mi seguiva per il fatto che generalmente non mi sono mai trovato con nessuna persona. Non mi sono mai trovato con nessuno ad alti livelli, a intimi livelli. Fino a quando, nel 2017, tre anni fa, ormai quasi quattro, vengo qua a Milano grazie a Tito Latell, il mio ex manager, che saluto, oggi siamo buoni con tutti. E conosco Daniele, bartender del MOBA. E la prima cosa che gli dico è, ma come posso commuovermi queste cose, porco Dio è là dentro, che coglione che sono. E la prima cosa che gli dico è, che problemi hai? Perché lo vedo dietro, boh, sono studio. E' veramente là dentro. Pessimo. Pessimo. Complimenti Twitch, ce l'hai fatto. Ce l'hai fatto. Boh. E la prima cosa che gli dico a Daniele, quando lo vedo è, ma che cazzo di problemi hai? Perché mi aveva fatto il primo drink e mi guardava con quella faccia che è a lui, ovvero questa qua. La faccia di Daniele default. E la prima cosa gli dico, è tutto ok? Che cazzo di problemi hai? E' una storia che sapete tutti quanti. E poi, durante quella giornata, mi ha sempre chiesto a mo' di meme, ma come va Marco, come va? Boh, non so parlare, è finito. Sta di fatto che di sera, ritorniamo a Milano, io e Giampiero. E ci vediamo di sera con Daniele e Lucy, la sua vecchia ragazza. Questo sempre tre anni fa. E mi dice, Marco, quanto sarebbe bello fare Twitch insieme. Perché io non l'avevo mai fatto. Potenziato dal fatto che tu già sei famoso su YouTube, quindi possiamo usare questo come cavallo di battaglia. Entriamo su Twitch e possiamo fare questa coppia qua. Io in generale dico sì a tutti. A tutte le persone che vogliono seguire un po' il mio sogno. Perché in generale è brutto sentirsi soli ed è bello vedere qualcuno che ci crede quanto me a qualcosa di così inusuale come il vivere facendo il video o il vivere di questo intrattenimento qua. È una cosa non da tutti. Io dico sì a tutti. Ci trasferiamo a Milano e decidiamo non solo di aprire questa roba insieme, di fare questo insieme, ma di addirittura vivere insieme. E ricollegandomi a quello che ho detto prima, quando ho parlato del fatto che non mi trovo bene con tanta gente, non trovo solo un tizio che... Avete presente quando la mamma vi dice ma che cazzo fai se un tuo amico ti dice buttati dal balcone e tu lo fai? E tu ovviamente rispondi no. Beh, porca madonna, Daniele lo farebbe. Se io dicessi Daniele buttati dalla finestra, lui lo farebbe. Solo per farmi ridere. Solo per raccontare qualcosa di quella giornata. Quindi trovo non solo un sognatore che si è buttato in questa cosa insieme a me senza chiedere né sé che ma, ma trovo il mio migliore amico. Pazzesco. Quello che ho costruito con Daniele in questi tre anni è difficile raccontare perché in generale non sono una... nell'intimità non sono una buonissima persona. Il meme del manipolatore esiste per qualche motivo, ma Daniele, boh, non lo so, ha sempre visto oltre, non gliel'è mai fottuto un cazzo. Questa roba qua a me mi ha un po' preso perché ho sempre visto l'amicizia come un andare e venire e lui è sempre rimasto. Non mi ha mai voltato le spalle. Le uniche volte in cui me la prendo con lui è solamente perché non abbiamo idee simili, ma sono cose che veramente perdono subito il tempo che trovano perché dall'altra parte c'è una persona con cui veramente mi butterei sotto un treno senza pensarci due volte perché so che lo farebbe col sorriso insieme. non ha mai avuto problemi. Siamo stati molto fortunati a trovarci. Sono stato molto fortunato a trovare Daniele come amico e come collaboratore. I primi due anni insieme l'ho presentato su YouTube. Il risponso è stato orribile. L'hanno odiato tutti quanti perché su YouTube è un po' diversa la cosa. Io mi ero creato un po' il mio impero e quindi trovare questa persona carismatica quanto me, condividere il mio stesso riflettore, perché prima sono sempre state spalle, la gente l'ha presa malissimo. Ma io sapevo che se solo l'avessero conosciuto un po' meglio tutti si sarebbero infilati la lingua nel culo. Fatto sta che un anno fa, mi sa che esattamente un anno fa, noi apriamo Twitch e arriva per me, per Daniele, una delle collaborazioni più incredibili che io non mi sarei mai immaginato. Abbiamo solo fatto live del cazzo, ragazzi. Abbiamo solamente giocato ai videogiochi horror di merda che non si caga nessuno. Abbiamo solamente raccontato le nostre stronzate. Ma... Ma è stato... Quello che ha fatto Daniele in quei mesi è stato veramente qualcosa che non mi sarei mai aspettato, perché sentivo veramente che se già fra... Con qualche live del cazzo potevamo veramente far sorridere tanta gente, perché eravamo con una sintonia così... Aliena. E ho detto chissà che facciamo quando aprirà il baretto, chissà cosa succederà se andremo a viaggiare insieme in live, chissà, tante robe, no? Poi ragazzi, non fatevi illudere da nessuna... da nessuna persona online, si odiano tutti quanti. Tutti si vogliono male. Non ho conosciuto una persona che non mi abbia parlato bene del suo collaboratore. Una sola. Io e Daniele siamo dei cazzo di fratellini. Non lo so, gli succhierei il cazzo. Lui pure a me. Gli voglio bene, lo amo. E lui... E non è neanche necessario dirselo. Ci vogliamo veramente bene. È una cosa così rara. E quando hai questa roba qui, quando hai questa cosa qua, così grezza e pura, qualsiasi contenuto fai diventa un contenuto incredibile e che rimarrà nel cuore non solo nostro, ma di tutti. che sono di importanza uguale, ragazzi, per quanto la gente pensi che è solamente il pubblico, è solamente il creator. Su Twitch è veramente entrambi uguale. E Daniele mi ha veramente insegnato tanto nelle live insieme. Io infatti nelle prime live cercavo di fare molto lo youtuber, fallendo miseramente, mentre lui invece viveva. Se la viveva easy, se la viveva divertendosi, una roba che per me non esisteva prima perché era sempre stato tutto uno script. Non a caso quando parlavo di me seriamente su Twitch le prime volte, prendevo male il fatto che la gente prendesse male il fatto del mio essere manipolatore. Non ci capivo un cazzo. Lui mi ha portato veramente sulla strada del vivermi meglio le cose. Questo per sei incredibili mesi. Da novembre circa fino a maggio. L'hanno bannato a maggio. È stato incredibile, ragazzi. Ci siamo divertiti. Abbiamo fatto solo stronzate. Non abbiamo dato fastidio a nessuno. Non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto un cazzo! Non abbiamo rotto il cazzo a nessuno! Ma il sesto mese Daniele Simonetti sdrumox viene bannato. bannato. Mi ricorderò per sempre quel giorno. Mi sono svegliato. Era tutto in penombra. Apre la porta. Bro! Sono stato bannato. Al che il mio stupido oh! Di nuovo! Ok! Ci vediamo fra una settimana. Sto gran paio di palle. È stato bannato per razzismo, Daniele. Per hate speech. Ora, non posso dire il motivo principale. Mi limito a dirvi la categoria. invitandovi tutti quanti a seguire il suo prossimo video di YouTube dove spiegherà tutto quello che è successo in questi sei mesi. Tutto quello che è successo dalla sua parte. Tutto quello che abbiamo cercato di fare. Tutto quello che ci hanno detto di cercare di fare. Tutto. È stato bannato per razzismo. Ora, io non so chi di voi grazie alle nostre live abbia giovato di questa promozione razzista da parte di Daniele ma secondo me sono tutte minchiate. Secondo me è veramente 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 ingiusto. perché da parte mia vabbè già lo sappiamo non sempre stato per il diverso che già questa parola è diventata stupida sempre stato per la varietà non me ne è mai fregato un cazzo. Me ne è solo fregato della gente a cui frega così tanto che è disposta a distruggere la vita di una persona che non è razzista. Perché? Per fare un esempio di sta minchia. sono davvero dell'idea che nessuno ha imparato niente di questa cosa qua. Nessuno. Sono davvero dell'idea che nessuno non solo non ha imparato un cazzo ma una volta che uscirà il video di Daniele succederà l'effetto opposto. e non perché lui si impegnerà a farlo accadere perché da quello che mi ha detto il video che farà sarà solo esplicativo e oggettivo al 100% ma nessuno imparerà un cazzo. È stato un ban inutile ho visto per 6 mesi una persona cadere nel baratro nel porca miseria di baratro ragazzi e comunque sorridere ogni giorno Daniele non lo so che cazzo ha fosse accaduto a me avrei fatto la drama queen per un anno di fila avrei iniziato a fare gli sciopri avrei chiamato non lo so lui si è stato zitto zitto e si è ficcato la sua lingua nel buco del culo perché così c'è stato detto 6 mesi che sono non sono volati per niente sono stati i 6 mesi più pesanti della mia vita perché trovo un amico trovo un collaboratore me lo tolgono per un motivo che non vedo l'ora che tutti dovete dovete veramente ascoltarlo dovete veramente sapere di che si tratta dovete veramente guardare il suo video quando uscirà e traete le vostre conclusioni perché perché questo ban per aver contravenuto alle regole del razzismo e dell'hate speech è stato fatto per voi giusto? per insegnare a tutti che figure come quelle di Daniele non devono esistere nel mondo dell'intrattenimento ok vaffanculo però secondo me cioè vaffanculo mi sembrano solamente grosse parole che non vogliono dire un cazzo l'ultima live di Daniele è stata lui che insieme a Alessandro Cecchi Paone intervistavano un tizio che aveva avuto severi problemi mentali e che era uscito dal cazzo di manicomio Ivan sei sei un cioccolattino grazie grazie dei 50 euro li impiegherò a fazzoletti ti giuro tu ti merito una seconda opportunità specialmente chi non ha commesso alcun crimine grazie bro ho ripetuto così tante volte queste parole ragazzi ho ripetuto così tante volte sapete Daniele in tante cose è un deficiente è un coglione sbaglia tanto nei modi è piccolo per certi versi soprattutto per quanto riguarda l'esperienza online ma lui tolte queste cose è una cosa sola ovvero molto sincera e molto diretta una cosa che io non ho mai visto online e che quando l'ho accoppiata alla mia persona ho fatto delle live e dei momenti insieme a lui che ho detto no questa qua è un punto alto della mia vita questo è veramente una persona con cui io potrò continuare a lavorare forse per sempre quanto è raro dire la parola per sempre ragazzi cazzo eppure lo sentivo non l'ho mai sentito non l'ho mai sentito e non me ne è mai fregato di arrivare a sentirlo è successo e quindi in questi mesi che lui ha passato davvero come un equilibrista in un cazzo di filo in una montagna poteva cadere nella distezza nella disperazione nessuno ha capito un cazzo di lui nessuno tutta la gente che andava a dirgli puoi fare qualcosa nessuno può capire neanche io perché anch'io sono arrivato a dirglielo ma nessuno effettivamente può capire lui potrà anche aver sbagliato in tante cose nei suoi modi eccetera ma quando io sento che una persona deve stare su internet che è nata per stare su internet e con cui mi trovo così bene e con cui mi diverto così tanto a livello pure di quando mi divertivo con mio fratello allora io questa persona devo tenermi devo curarmi di questa persona qua infatti questi mesi ho cercato di fare di tutto per tirarlo su l'ho aiutato in tante cose io penso che Daniele meriti almeno questo perché non gliene mai mai fottuto un cazzo di prendervi per il culo e in Italia lo fanno davvero tutti ma non è neanche una cosa cattiva è solamente un modus operandi devi prendere in giro i tuoi spettatori e a lui non gliene è mai fottuto un cazzo cioè almeno questa persona merita la chiarezza e l'aiuto e la chiarezza e l'aiuto non sono arrivati per quanto la gente può dire quello che cazzo vuole possono venirmi a dire quello che cazzo vogliono ma non è vero ci siamo appesi a speranze che ci siamo ritrovati nel buco del culo Daniele sta bene perché dovete mettermi un attimo nei panni di chi per sei mesi è stato appeso a un cazzo di filo e dopo sei mesi finalmente gli dicono ok lascia la presa cadi e muori è viva che lo fai non vedi l'ora non è mai stato il sì o no è sempre stato il forse è sempre stata questa merda di chiarezza che non esiste questo aiutato dal fatto che dovevamo cambiare casa io ho speso decine di migliaia di euro per progetti con una persona che mi è stata strappata via per motivi di razzismo vaffanculo vaffanculo non ha fatto un cazzo non ha fatto niente e io non vedo l'ora della sua spiegazione del suo video non tanto per vedere il video perché ormai lo so a memoria cosa dirà ma per vedere la vostra direzione io voglio vedere che cazzo avete da dire perché voi siete quelli importanti tutti voi perché queste precauzioni qua questi ban vengono fatti per proteggere voi ma se voi la ritenete una stronzata allora io potrò dormire la sera più tranquillo perché ho dormito sei mesi di merda la prima volta io entro pure in conflitto con me stesso perché la prima volta che mi trovo con una persona e mi trovo bene e decido di fidarmi e di abbassare un attimo le difese ecco che succede una cazzata per colpa di quella persona allora non c'è speranza allora lavoro da solo allora mi ammazzo di solitudine e basta però non l'ho mai vista così nonostante sia la soluzione che gira di gina torna nella mia vita però non l'ho mai vista così ho sempre cercato il gruppo ho sempre cercato la festa e con Daniele l'avevo trovata e l'hanno tolta perché lui è un razzista avete sentito tutti? perché lui è un razzista si è comportato da razzista che minchiata che minchiata del cazzo la domanda comunque potete stare tranquilli perché Daniele strapperà il contratto con Twitch tornerà a fare live con grossa probabilità in altre piattaforme anzi con tutta la probabilità la domanda è cosa farete insieme perché questa era l'idea principale che fine farà il bar che fine farà il Jojojo il viaggio che ce l'avamo impostati con tutte le tappe della terza stagione di Jojo che fine farà tutto io sono con il morale sotto terra per ora ma posso dirvi che la stessa cosa che vi ho detto qualche mese fa non l'avrò non gli la darò mai vinta questa gente qua perché io non voglio portare un intrattenimento che si basa sulla piattaforma dove sto io voglio portare un intrattenimento che si basa sulle amicizie che ho e sull'amore che ho di fare queste cose qua insieme a un'altra persona innamorata come me di quello che fa e se questa persona se ne va via la gente mi ha sempre seguito nella mia vita la gente mi ha sempre seguito e io non ho mai guardato indietro non mi sono mai fermato e chi rimaneva indietro moriva non me ne fotteva un cazzo ma per la prima volta che guardo indietro smetto di correre mi fermo e aspetto che questa persona mi raggiunga per poi ricominciare insieme se Daniele quitta facciamo il bis perché se devo mettermi a dare un merda di prezzo a quella che è stata l'opportunità per me di trovare finalmente una persona con cui divertirmi e per estensione farvi divertire allora io mi ammazzo io non metterò mai un prezzo a sta merda di cosa qua e potrò perdere tutti gli euro che tutti i creatori che stanno abbandonando youtube stanno prendendo come motivo per venire qua ma non non me ne fotterà un cazzo non faccio questo non sto vivendo questa vita per questo motivo qua sono grato del fatto che sia arrivata a un livello così alto che ho raggiunto l'indipendenza economica ma non per questo devo salvaguardarla a costi come quello di un'amicizia e una collaborazione di quali non potrò mai trovare qualcosa di simile neanche morto neanche minacciato ragazzi non esiste ho passato un anno del cazzo insieme a lui sono solo forse stato peggio io che lui perché mi sono mi sono ridotto ogni volta ogni volta ogni ascoltatemi ogni singola volta che faccio vai live io mi sento un coglione ci credete ogni singola volta che faccio streaming mi sento un pezzo di merda coglione e mi sento un ladro perché non erano questi piani perché non penso l'intrattenimento che esista su twitch valga i soldi che da twitch soprattutto se non ho insieme a me una persona con cui mi ero stabilito di fare tutto fra cui anche dividere tutti quei frutti che appunto ci fruttava questo sito io da solo preferisco non farlo e ho aspettato un sacco ora che cazzo vuol dire questo non voglio sputare sopra tutta la gente che mi segue anzi io sono grato per tutto quello che fate e ogni volta che accendo la live potrò anche sentirmi un cretino ma mi sento bene insieme a voi non mi fate sentire solo è fighissimo è davvero il futuro dell'intrattenimento la live ma se a questo futuro dell'intrattenimento dobbiamo anche metterci delle regole che distruggono un pezzo di vita a una persona perché ha fatto la razzista allora amici miei non penso di voler giocare questo giochino che vergogna che vergogna ed è facile no pensare ok non funziona qua vai là ma il fatto ora può essere può essere considerato un problema da primo mondo ok ma il fatto che io debba iniziare la mia giornata sapendo che quel giorno io devo chiamare qualcuno e fargli solo capire cosa vuol dire per me fare live senza una persona così vitale per me ed è per questo per questo amore che non è più ricambiato che forse voglio andarmene via a me sta cosa fa sballare perché è così chiaro cioè pure il fan più merdoso imbecille ci arriva che questa cosa non funziona più che c'è qualcosa di di merda sotto cioè ci arrivano tutti e il fatto che io invece debba spiegarla manco a voi ma una persona che può determinare il destino di tutti noi boh mi fa paura come cosa è davvero terribile è una vera merda quindi amici miei quello che succederà adesso è che finisco di montare sto video sullo stupro che è anche questo molto importante e lo ricorderò per sempre come il video che ha subito il bandi Daniele perché sicuramente un po' di tristezza ce la sto montando dentro dopo la maratona di 12 ore da fare a metà dicembre ma dopo visto che io e Daniele dobbiamo anche cambiare casa dopo torneremo a parlare di sta cosa qua e a capire cosa fare se Daniele si butta dalla barca amici miei io sono ciccione e so galleggiare quindi sono a post non so se ci siamo capiti se abbandoni Twitch per Daniele sei un coglione o un amico una delle due frammare Paolo con sdrumox è stato magnifico ora non ho più significato nemmeno stare su Twitch Italia per me grazie a Twitch grazie a Marco mi avete regalato momenti bellissimi Paolo resterà uno schifo con Twitch addio Twitch ci becchiamo su YouTube grazie a tutti